Ben ritrovati, come sempre vi raccomandiamo di iscrivervi al canale, di lasciarci un like, di attivare la campanellina se ovviamente il video è stato di vostro gradimento. Allora, una volta si diceva ai tempi in cui il calcio era ancora romantico, nei tempi in cui il calcio si ascoltava attraverso le radioline, mi viene in mente la voce di Sandro Ciotti, scusa Enrico, ti devo interrompere da San Siro, ti devo interrompere da Torino, ti devo interrompere perché qualcuno mi ha fatto gol. E a me verrebbe da dire, scusate, intervengo dal mio canale, cosa che era impensabile fino a qualche anno fa, perché c'è un'importante novità. Perché questa sera gira ormai la notizia, divulgata già da altre testate giornalistiche molto importanti, di un accordo raggiunto tra il Milan e Antonio Conte. Mi verrebbe da dire era nell'aria, era nell'aria perché in realtà il corteggiamento di De Laurentiis non aveva portato a nulla, nonostante l'insistenza del presidentissimo Azzurro, che in un certo senso voleva quasi farsi perdonare dai tifosi partenopei per questa stagione, finora molto deludente, molto al di sotto delle aspettative, una stagione che purtroppo non è degna di quel meraviglioso Napoli campione che abbiamo visto lo scorso anno. E nonostante continui corteggiamenti, io non parlo di quest'anno perché Conte ha più volte ribadito come non voglia prendere una squadra in corsa, ma quando poi gli accordi non si possono fare subito si possono fare per giugno. Proviamo a ricostruire velocemente, poi arriviamo ovviamente alla notizia. Siamo nei primi mesi di campionato, diciamo tra ottobre e novembre, e Conte sembra ormai destinato a tornare alla Juve. Sembra che questo possa essere l'ultima stagione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus e poi la Juventus abbia già deciso di cambiare. Conte sappiamo che vive a Torino, Conte sappiamo che se avesse potuto scegliere sarebbe tornato alla Juve e quindi questa era la soluzione più logica e più probabile. Poi succede l'imponderabile, a partire da un fatto che la Juve quest'anno non sta giocando bene, ma sta mettendo insieme un sacco di punti, sta andando forse oltre le più rose previsioni, sta lottando per lo scudetto, è stata in testa la classifica, andrà a San Siro distanziata di un punto, anche se l'Inter ha una partita da recuperare. Sul piano dei risultati, come dico sempre io, non c'è nulla da dire, poi possiamo discutere del gioco. Scusate, io discuto tantissimo della comunicazione, dell'immagine che Allegri dà la Juventus, ma questo è un altro discorso che non c'entra nulla con questo video. Sul piano dei risultati, ovviamente la Juve sta facendo bene, Allegri sta facendo bene e quindi di conseguenza è chiaro che da questo punto di vista Conte si sia allontanato dalla Juventus. Ci ha provato il Napoli, senza successo, come abbiamo detto prima. Il Milan sembrava sul punto di prendere Tiago Motta. Vi ricordate che ho fatto un video sabato estremamente breve dove ho detto il San Siro dice di no a Tiago Motta. Certo, potevano anche essere dei fischi, dei dissensi per il fatto che Tiago Motta avesse fatto parte dell'Inter del Triplete, che è un cuore nerazzurro, però il puzzle non mi combaciava. E adesso questa notizia importante, già diffusa, che io non faccio altro che riportare, Zlatan Ibrahimovic vuole a tutti i costi Conte, è lui l'uomo dal quale bisogna ricostruire e sembra che tra Zlatan Ibrahimovic e Conte un accordo sia stato già trovato. Conte vuole tornare ad allenare a tutti i costi, anche perché è un uomo intelligente e sa benissimo che nel calcio non si possono perdere i treni, ok, i treni importanti, dunque, dunque, il prossimo anno tornerà. All'estero non ci vuole andare, vuole stare in Italia, vorrebbe stare a Torino, comunque in un posto vicino a Torino ed ecco che, chiaramente, il sillogismo porta a pensare a Conte, allenatore del Milan. Con Zlatan Ibrahimovic che farebbe carte false per averlo sulla panchina rossonera. Sembra che i due si siano incontrati, sembra che i due si siano piaciuti e sembra che abbiano trovato un accordo. Quindi salterebbe Tiago Motta che a questo punto potrebbe essere libero, ma sappiamo che ci sarà un waltzer di panchine incredibili perché c'è l'addio di Klopp a Liverpool, perché c'è l'addio di Xavi a Barcellona, quindi è un waltzer di panchina che potrebbe coinvolgere anche l'italiano Roberto De Zerbi che non tornerà in Italia e secondo me andrà a allenare una big. Poi chiediamoci perché certi allenatori, ma anche qui non è il video giusto per fare questo, perché certi allenatori tanto rinomati in Italia non vengono cercati da nessuno, questo poi un giorno dovrò capirlo, ma chiudiamo con questa notizia, poi sappiamo che è il mondo del calcio, so benissimo che qualcuno mi dirà hai detto un sacco di fesserie, ci sta ovviamente quando uno prova a fare dei video deve essere anche sottoposto a queste critiche, ma sappiamo che è più volubile e più volatile della borsa stessa, quindi al giorno d'oggi il nuovo allenatore del Milan per la stagione 24-25 sarà Antonio Conte.